salve a tutti oggi vi faccio vedere come fare la cancellazione dei file programmi internet in internet explorer andiamo su strumenti opzioni internet e schiacciamo sulla prima pagina scheda generale elimina vediamo che ci ha spuntato il file temporanei internet e schiacciamo su elimina poi ok e così si va a fare la cancellazione dei file temporane